Il gruppo Champa da Verità ha investito molto nella nostra città, oltre a San Giuseppe dell'Arena ha altri punti vendita, a volte di Catania, poi c'è altri marchi nella città, devo dire Catania è la capitale commerciale dell'isola, loro hanno fatto ricchezza e utili. Se oggi hanno un problema di ristrutturazione aziendale, la possono fare ovviamente nel loro diritto, quello che non devono toccare è i posti di lavoro di queste persone, quindi possiamo ragionare di ricollocazione all'interno di quest'area, siamo tutti disponibili, anche le organizzazioni sindacali a decidere se uno lavora in un posto piuttosto che in un altro, ci sono i margini per poterlo fare. Io farò vedere con tutta la mia forza la posizione della città di Catania da questo punto di vista. Nessuna nuova autorizzazione se prima naturalmente non c'era piena occupazione di quelli che già lavorano. Non c'è alcuna ragione oggi perché il punto chiuda, o perlomeno possono essere strategie esenziali di chiusura, ma quello che a me interessa è difendere i posti di lavoro. Quindi io contatterò i rappresentanti dell'azienda, chiederò al prefetto di convocare un tavolo di crisi, ma soprattutto chiederò che sia un tavolo di crisi anche a livello nazionale.